La Camera dei Deputati, la proposta di legge contro l'omotransfobia, un testo che punta a reprimere tutti gli atti di violenza e di discriminazione legati al sesso e al genere che ha suscitato, e ancora suscita, discussione. Cesare Cavoni. Approta oggi alla Camera in Commissione Giustizia il testo base contro l'omotransfobia e la misoginia che rappresenta una sintesi fra ben cinque testi. Il testo base interviene sull'articolo 604 bis del codice penale che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. Il testo di Zanna aggiunge in entrambi i casi che la punibilità interviene anche negli identici atti fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Su questo la CEI era già intervenuta dicendo in sostanza che la legge non serve poiché i reati in oggetto sono già puniti, adombrando quindi nei confronti del testo il reato di opinione. In realtà questo è già ampiamente tutelato dal nostro ordinamento penalistico, che non ammette qualsivoglia forma di violenza, di aggressione verso i soggetti, a prescindere dal loro orientamento, dalle loro preferenze sessuali e dalle loro condizioni di vita. La persona è degna di essere tutelata in se stesso, per questa dignità intrinseca che porta con sé, a prescindere dalle opzioni culturali di cui può essere portatrice. Ricordiamocelo, perché inserire invece dei reati di opinione è l'anticamera che mina una parte della nostra democrazia, tanto faticosamente conquistata.